Il Veile passa il turno. Come passa il turno il Real Madrid che batte il Levski di Sofia per 2 a 0. Facendo leva sulla fresca vena di Cunningham, il Real Madrid sta andando sufficientemente bene in campionato ed anche in Coppa. Vince per 2 a 0 con due gol realizzati entrambi nel primo tempo. Ecco intanto proprio Cunningham in azione che impegna il portiere del Levski di Sofia. All'andata il Real aveva vinto per 1 a 0. C'è stato anche purtroppo un incidente piuttosto grave con una frattura per Kochev, un giocatore del Levski. Ed ecco ci avviciniamo all'azione della rete. C'è un traversone e un colpo di testa di Del Bosche che il portiere non trattiene. È piuttosto un errore del portiere che un bel tiro di Bosche. Comunque premia l'intenzione di Bosche questa rete del 1 a 0 al ventesimo minuto. Solo 12 minuti dopo viene il raddoppio. L'arbitro Rion, il belga Rion, ravvisa in un atterramento, in un intervento su Roberto, gli estremi per il rigore. Mentre intanto vediamo la difesa spagnola a sua volta impegnata piuttosto rudemente ai danni degli attaccanti del Levski. Qui l'atterramento già accestato. L'arbitro Rion concede il rigore che Cunningham trasforma per il 2 a 0 complessivo e per la qualificazione del Real a spese del Levski di Sofia.